Ciao a tutti, cosa è successo al mercato immobiliare di Manhattan durante la crisi del Covid-19? Andiamo a vedere. Alla luce del fatto che la quarantena era stata imposta a Manhattan all'incirca della metà di marzo, questo è il primo report largamente influenzato dalla crisi del coronavirus. Le vendite hanno mostrato subito una brusca frenata fin dall'inizio della crisi. Con un mercato immobiliare in lockdown fino al 22 giugno, momento in cui gli agenti sono stati nuovamente autorizzati a mostrare immobili di persona. Dato questo particolare momento storico, molti dei dati che andremo ad analizzare sono dei record negativi. Il numero delle vendite è crollato del 54%, il numero più significativo negli ultimi 30 anni. Il prezzo mediano di un appartamento è calato del quasi 18%, raggiungendo un milione di dollari. Questo calo però non va interpretato come una sorta di sconto Covid, perché infatti l'anno scorso, nel secondo trimestre, c'erano verificate un numero elevato di vendite di nuovi immobili, quindi nel settore lusso, che avevano un pochettino sballato le medie. Quindi stiamo un po' confrontando gli estremi in questo caso. Il prezzo medio di vendita è calato del più del 10%. In discesa anche il prezzo medio al metro quadro, discesa del 7% per raggiungere i 18.000 dollari al metro quadro. Lo sconto sul prezzo di listino è cresciuto, raggiungendo il 7,9% dal 5,9% nel secondo trimestre dell'anno scorso. L'inventario, ovvero il numero di immobili sul mercato delle vendite, è sceso del 17,6%. C'è stata una discesa brusca dopo l'inizio della crisi del coronavirus. Quindi gli immobili sul mercato avevano raggiunto un picco in febbraio e poi la brusca discesa. Solo a partire da giugno il numero di proprietà sul mercato è cominciato a risalire e per il momento siamo ancora a livelli inferiori rispetto all'anno scorso per quanto riguarda il numero di proprietà sul mercato. Il tasso di assorbimento, ovvero la velocità del mercato, ci dice che il mercato ha rallentato fortemente come ci si poteva aspettare, il rallentamento è stato di quasi l'80% rispetto all'anno passato. Al momento ci vogliono 13 mesi, più di 13 mesi, affinché tutto l'inventario possa essere assorbito dal mercato. L'anno scorso questo valore era di poco superiore agli 8 mesi. Una buona notizia è che il mercato, da quando ha riaperto il 22 giugno, ci sta mostrando dei vivaci livelli di attività e quindi siamo particolarmente impegnati in queste settimane. Nella saga che è il mercato immobiliare restiamo in attesa di vedere come si evolverà la trama nel prossimo trimestre. Sicuramente le opportunità per chi è interessato non mancano. Nel frattempo se avete domande su ciò che vi ho appena esposto sapete come contattarmi. Alla prossima!